Ci siamo fermati per una tappa molto importante che è la merenda E la merenda tipica, ok, della Scozia è il Deep Pride March Bar Che cos'è? Lo scopriremo tra poco È una schifezza comunque Buono, buono Ok, siamo pronti per assaggiare il Mars fritto Che cos'è? È un Mars fritto Buonissimo, raga C'è la pastella Il cioccolato assolto dentro E il caramello Com'è Bubi? Dai, non fare quella faccia Non la Virgico me lo guarda Com'è Katia? È molto buono E tra l'altro qua dentro fanno anche il burro fritto O tipo il cagotto Io ne voglio un altro, Bubi Smetti la caggia Vuoi un altro? È un regolo Sì, 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 è un regolo Sai che io lo volevo chiedere Ma il burro Com'è? Cos'è questo? È il? Black pudding Praticamente è sangue coagulato, cotto È una crosta per gli amici L'inglese piace La colazione è ormai Questo nuovo Forridi Avevamo fame Abbiamo ordinato Thai E ci sono arrivati gli spaghetti alla Bolognaise Buoni Che schifo Bene raga, stiamo per assaggiare un altro cibo schifoso Sono delle patatine All'huggis All'huggis Che dovrebbe essere l'intestino di qualcosa L'interiore L'interiore, l'interiore Ingredienti Patate Egg No, no, non lo spiega Che cos'è Huggis, è Huggis Non ha significato È La ricetta è segreta È un po' come l'ingrediente segreto della Coca Cola Esatto Madonna Fammele vedere È buonissimo raga Vabbè, sembra un patatino Allora, seggiamo Tre Due Uno Buoni Kat è l'unica con una faccia bella Comunissimo Ma come mangiare tipo della farina No, avete presente le più frisco Più Rosso Più spesse E Con un retributile carne Ok raga, stiamo per provare il famosissimo bubble tea Che non so che cosa sia Spettacolo Di che cosa sta? Sì Di mela Sì Ho visto salire Palle Ehi Adesso stiamo ammattando una fantastica zuva vegetale che sa di piedi Che cosa hai ordinato più grande della tua faccia? Ragazzi qua hanno vinto il premio per il fish and chips più buono Tanta roba Ok in questo momento perché fa fredissimo ci siamo fermati una bellissima sala da te A capo stupi A capo stupi com'è? buona questa di più l'acqua gasata di quelle com'è Katia? buonissimo buone? fammelo assaggiare dai Katia non ti ho mai chiesto di farmi assaggiare qualcosa di tuo dai com'è Bubi? buona buona